Prima uscita pubblica del Presidente della Repubblica Mattarella e dei Ministri Speranza e Franceschini dopo la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere. Il Capo dello Stato, accompagnato anche dal Presidente della Regione Lazio Zingaretti e il Sindaco di Roma Gualtieri, si è recato all'inaugurazione del restauro delle corsie sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassi a Roma, un pezzo della capitale che torna ad essere fruibile a cittadini e turisti grazie all'intervento realizzato dall'Asla Roma 1 e finanziato dalla Regione Lazio per circa 5 milioni di euro. Grazie a tutti!